Jingle Spot Agenzia del Mago Alberto In via Candia 141b Fantastico bonus di benvenuto Sull'apertura del vostro conto online Ormai è chiaro L'Inter vuole Lucas Biglia Secondo Sky Sport I nerazzurri avrebbero già presentato Un'offerta ufficiale di 15 milioni di euro Alla Lazio Troppo pochi per il padrone lotito Che non ne chiede meno di 20 o 25 Per l'argentino Tutto rispedito al mittente Con ausilio però che ritenterà a breve Lucas è l'obiettivo numero uno Per rinforzare la rosa di Mancini I biancocelesti hanno già respinto il primo attacco Ora le carte sono state scoperte Nessuno più potrà nascondersi Dietro una dichiarazione di circostanza Se la Lazio vorrà tenersi Biglia Dovrà parlare con l'agente E proporre un bel rinnovo di contratto Altrimenti sarà addio Le offerte non mancano E ne arrivano altre Agenzia del Mago Alberto In via Candia 141b Consigli del Mago in sede E schedine già pronte E giocate per voi Fantastico bonus di benvenuto Sull'apertura del vostro conto online Agenzia del Mago Alberto In via Candia 141b Il posto migliore Dove passare alla cassa Agenzia del Mago Alberto Agenzia del Mago Alberto Agenzia del Mago Alberto